La mattina ci svegliamo dal solo dubbio Io consiglio a tutti voi, fateli a tutti, che stanno a fare l'ingegnere? Anche oggi si guadagna domani 110 euro Sono un vecchio sparring partner La paura non è debolezza, anzi è nella paura che si unicolato La mattina ci svegliamo dal solo dubbio